Penso di non essere mai stata così felice di fare un video prima d'ora. Come avrete capito dal titolo, questa non sarà una recensione classica di Soul, ma anzi parlerò del film collegandomi ad uno dei miei autori preferiti, ossia Luigi Pirandello. Come sempre, prima di iniziare vorrei fare le mie premesse, ossia non sono assolutamente un'esperta né di cinema, né di letteratura, né di qualsiasi altro argomento al mondo. Sono semplicemente una persona che ama l'arte, amo studiare anche da sola queste cose e per quanto riguarda questo video mi sono riguardata tutti i miei appunti del liceo in modo tale da riprendere letteralmente le parole della mia professoressa di letteratura, che è una delle migliori che ho avuto in tutta la mia vita e chi mi conosce saprà che Pirandello è un autore che sin dalla prima volta che l'ho studiato mi è entrato letteralmente nel cuore, non solo per la bravura infinita della mia professoressa, ma anche perché è un autore che da quando ho studiato mi ci sono subito rivista. Ed è per questo che guardando Soul ci sono stati dei dettagli che mi hanno fatto ricordare un testo in particolare di Pirandello. Questo testo si chiama Il treno affischiato e fa parte delle sue novelle per un anno. E prima di iniziare a parlare del film ovviamente vi devo parlare di questo testo. Non so se sapete che cos'è l'epifania. Nella letteratura questo termine è stato utilizzato più volte oltre che a Pirandello, si ritrova anche in Joyce, però ho voluto concentrarmi su Pirandello perché è un autore che conosco decisamente molto di più. E cosa c'entra tutto questo con Soul? Ovviamente adesso lo scopriremo. Il treno affischiato a me è piaciuto sin dalla prima volta che l'ho letto. Infatti sono stata molto contenta di poterlo rileggere per fare questo video. È una storia molto particolare, anche per come viene narrata. È una storia fondamentalmente di alienazione mentale. Si parla di questo Belluca, che è il protagonista, che viene descritto da un personaggio esterno. Quindi non è una storia scritta in prima persona, ma è una persona che osserva questo Belluca e lo descrive. Fondamentalmente Belluca è un contabile. Viene praticamente descritto come un somaro con i paraocchi. Quindi una persona molto docile, obbediente, che non si ribellava mai e che faceva tutto quello che gli dicevano di fare gli altri. Questo succedeva sia al lavoro, sia in famiglia. E nel testo ci viene descritto nei dettagli. Viene anche descritto come una persona che subisce davvero tantissime cose. Tantissime cose che non gli piacciono, ma lui non ha mai la forza di reagire. Quasi come se non vivesse davvero la sua vita, non si rendesse neanche conto di avere un corpo e di essere una persona vivente. E questo lo dico perché nel testo ci sarà una cosa in particolare che rappresenta la svolta. Belluca una notte sentirà una cosa, ossia un fischio del treno. Un treno che passa vicino a casa sua e da quel fischio avviene la cosiddetta epifania, quello di cui parlavo all'inizio del video. Quindi che cos'è questa epifania? L'epifania fondamentalmente è una rivelazione. Metaforicamente è come se si stesse parlando di una persona che continua ad annaspare nella sua vita, continua ad andare avanti con molta fatica, scollegandosi totalmente dal suo corpo e dalla sua vita, iniziando a vivere quasi automaticamente. E l'epifania è il momento in cui ti rendi conto che sei vivo, che hai una vita e ci sono altre vite oltre la tua che ti circondano e che la vita va avanti e tu puoi essere l'unico che ne prende il controllo. In altre parole l'epifania è l'improvvisa capacità di vedere la realtà e di rendersi conto che c'è una vita. Quindi grazie a questo fischio si rende conto che là fuori c'è un mondo che continua ad andare avanti. Inoltre il treno per lui è come se fosse un modo per evadere dalla sua realtà. Viene infatti descritto nel testo che lui spesso si immaginava lontano dalla sua famiglia, lontano dal suo lavoro, un po' come quando ci facciamo i viaggi mentali. Esattamente così. Belluca grazie a quel treno è come se la sua vita si fosse rivoluzionata. È stata la cosiddetta epifania. E il giorno successivo decide di arrivare tardi al lavoro, di non lavorare e non impegnarsi, cosa che da Belluca non se lo aspettava nessuno. Tanto che nella storia iniziano a prenderlo come un vero e proprio matto. Per chi conosce Pirandello saprà che nella sua poetica si parla spesso dei matti, della follia, perché secondo Pirandello solo i matti erano realmente liberi. E quindi anche Belluca verrà rinchiuso in un ospizio per matti, proprio perché nessuno lo riconosceva, pensavano fosse impazzito e in realtà era solo più consapevole. Il racconto è quindi diviso in due parti che rappresentano due punti di vista diversi. Da una parte abbiamo il punto di vista superficiale, ossia quello delle persone comuni che non si fanno domande, prendono per pazzo il protagonista e se ne lavano le mani. E dall'altra parte il narratore, che scopriremo essere il vicino di casa di Belluca, colui che conosceva la situazione del protagonista. E questa epifania che vive Belluca io l'ho ritrovata veramente tantissime volte in Soul. E il primo cenno di epifania pirandelliana ce l'avremo nel momento in cui Joe Gardner diventa il mentore di 22 e letteralmente riesce a vedere la sua vita come se fosse una mostra. E lì da fuori, come se fosse un'altra persona che l'osserva, riesce a rendersi conto di come stava andando effettivamente la sua vita. Lui poteva in tutti i sensi rischiare di diventare un'anima perduta, anche perché viveva con l'unico obiettivo di suonare in un quartetto jazz, quando in realtà, poi lo vedremo anche col film, la vita non è solo il tuo scopo. Cioè la vita è giusto che abbia uno scopo, ma non può essere solo quello, perché se no, quando diventa un'ossessione, ce lo spiegano anche nel film, si perde la concezione della realtà. C'è il distacco con l'anima. Un'altra scena, ed è quella che mi ha fatto dire questa è l'epifania pirandelliana, è stato il momento in cui Joe Gardner, nel luogo delle anime perdute, assiste al ricollegamento di un'anima perduta, l'anima che aveva l'ossessione di fare affari. Si vede infatti questa scena meravigliosa in cui l'anima rientra nel corpo dell'impiegato, lui ha proprio questo momento in cui si alza, si guarda intorno e dice che cosa sto facendo della mia vita? e inizia a spaccare tutto. Quella è l'epifania pirandelliana, è quello che è successo a Belluca. Un altro cenno ancora all'epifania, io l'ho notato anche nella scena in cui 22, ormai nel corpo di Joe, si rende conto che il mondo non è così male come diceva sempre, e che anzi riesce a notare delle cose che Joe in primis non aveva mai notato prima, ossia la vita, letteralmente. Ed è stata, secondo me, una delle scene più belle del film. E già mi sto per mettere a piangere adesso, quindi voglio immaginare quando racconterò della scena dopo. Perfetto! Comunque, la scena è quella in cui 22 ha un momento di estraneazione, è come se si fosse chiusa nella cosiddetta bolla di cui parlano anche all'interno del film e inizia a notare i piccoli movimenti delle foglie. Le persone che parlano tra di loro, il papà che gioca con la bambina, e in quella scena una foglia d'acero gli si appoggia sulla mano e lei si rende conto che non per forza bisogna avere uno scopo, bisogna anche solo avere la famosa scintilla, ossia qualcosa per cui sei spinto a vivere. E quella cosa potrebbe benissimo essere la vita stessa. Infatti c'è questa parte meravigliosa in cui 22 dice testualmente forse io non ho uno scopo, forse il mio scopo è camminare, forse il mio scopo è vedere il cielo azzurro. Quello secondo me è un primo cenno di consapevolezza da parte di 22. Da parte di Joe invece l'epifania vera e propria la avremo quando lui riesce a suonare in questo quartetto. Si rende conto che non è così pazzesco come pensava perché tutti ben sappiamo che ogni volta che abbiamo un obiettivo questo sogno, questo obiettivo lo idealizziamo come se fosse la cosa più bella del mondo, come se fosse lì la felicità che cerchiamo. Infatti Joe quando sta per andare a suonare nel quartetto dice proprio da oggi la mia vita cambierà. come se fosse quello l'unico scopo e obiettivo nella vita. Infatti poi suona ha comunque una bellissima serata ma si rende conto che non è così entusiasmante come pensava. E poi c'è la scena secondo me più poetica e meravigliosa di tutto il film ossia la scena in cui lui dopo aver suonato torna a casa prende dalla tasca tutte le cose che gli ha messo 22 quindi il pezzo di pizza il pezzo di ciambella e tutte le altre cose che aveva un po' raccolto in giro durante la sua esperienza sulla terra le mette davanti a lui sul pianoforte e inizia a suonare e si rende conto che la cosa migliore che si può fare sulla terra è quella di vivere e vivere anche notando quei piccoli dettagli quelle piccole cose che possono realmente arricchirci la giornata e lì c'è l'epifania di Joe Gardner infatti quando poi torna in vita perché gli viene data una seconda possibilità ci rendiamo proprio conto che questa consapevolezza che ha acquisito l'ha fatto realmente cambiare e io ho trovato questo messaggio di una profondità e di una bellezza così infinita che non riuscivo a non farci un video sopra io personalmente ho esattamente questa visione della vita infatti mi sono ritrovata tantissimo mi ha ricordato in molti punti anche American Beauty e chi mi conosce sa che American Beauty è uno dei miei film preferiti e anche solo la scena delle foglie che vengono mosse dal vento mi hanno ricordato tantissimo la famosa busta che viene mossa dal vento e l'ho trovata una cosa così poetica e così bella che io mi sono ritrovata alla fine di questo film quasi rinata è uno di quei film che io dico sono film terapeutici quei film che hai bisogno di guardare non è che hai voglia hai proprio il bisogno e a me dispiace veramente tantissimo se ad alcune persone questo messaggio non è arrivato ma secondo me è importantissimo quello che ti vuole trasmettere perché la bellezza può realmente essere trovata in qualsiasi momento della giornata basta anche solo alzare per un attimo lo sguardo dal cellulare guardare un attimo fuori dalla finestra e vi posso assicurare che di cose meravigliose se ne possono vedere migliaia io spero davvero che questa analisi e pseudo recensione vi abbia fatto piacere ho voluto fare qualcosa di diverso dal solito e se avete visto Soul fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché ho bisogno sempre di parlare di questi film e nulla vi mando un bacio un abbraccio e noi ci vediamo ad un prossimo video è mai stata oh no non ho acceso il microfono no è acceso ma non l'ho collegato è qui sotto ma nessuno lo vede che bel primo piano